L'IRIFOR Sicilia, grazie all'avviso 7 dell'assessorato alla formazione, ha dato il via a due corsi di centralinisti telefonici su sistemi informatici, uno su Palermo e uno su Catania. I 30 corsisti coinvolti approfondiranno l'informatica, le lingue straniere, le tecniche di comunicazione, così da avere un'adeguata preparazione a svolgere un profico lavoro e dare un valido contributo alla società civile.